In questo video vedremo come utilizzare uno degli strumenti essenziali che utilizzerete tutto il tempo su Figma, ovvero lo strumento rettangolo. Dopodiché passeremo anche a tutti gli altri strumenti, ma cominciamo con il primo. Ora, per creare un rettangolo, semplicemente selezionate lo strumento rettangolo e con il tasto sinistro del mouse potete creare tranquillamente, come vedete, un rettangolo. A questo punto ci sono un paio di cose da tenere a mente, ovvero la prima cosa che vale un po' per tutti gli strumenti e i tools di cui parleremo, è che potete gestire l'orientamento sull'asse X direttamente da qui, quindi aumentando o diminuendo il valore potete anche aggiungere un valore direttamente da qui. Stesso vale anche per l'asse delle Y. Potete cambiare la larghezza, che è il width, questo a W, oppure l'altezza direttamente da qui. Quindi ad esempio se io scrivo 1000, avremo una larghezza di 1000 pixel e se vogliamo mettere la altezza a 1000 anche, avremo un quadrato. Ora possiamo anche creare un quadrato in maniera molto semplice, selezionando lo strumento rettangolo e utilizzando shift mentre creiamo appunto quest'ultimo, in maniera tale che creiamo un quadrato perfetto. A questo punto altre cose da tenere in considerazione sono il corner radius, che ci permette di arrotondare i bordi di queste punte del rettangolo. Possiamo anche fare doppio clic sul rettangolo stesso, possiamo selezionare uno o anche molteplici punti utilizzando shift e possiamo andare anche ad esempio a diminuire o aumentare ancora di più l'orientamento del corner radius del rettangolo. Dopodiché ci sono alcune cose che possiamo fare un po' con tutti gli altri strumenti, come ad esempio possiamo inclinare e qui vedete che c'è appunto lo strumento della rotazione. E possiamo anche cambiare il colore e tutta una serie di altri settaggi che vedremo in maniera più approfondita negli altri video di questo corso gratuito.